Una partita strabiliante contro il sold out dell'Alliance Cloud, che effetto ti ha fatto? Comunque avevo fatto una partita davanti a tanti genti, bellissimi appunti e quindi sono molto contento. Adesso ti aspetta gara 3? Insieme ai tuoi compagni sarà una sfida completamente diversa, il fattore campo non c'è e loro sono agguerriti, l'hanno dimostrato in gara 1 e sarà così anche in gara 3. Voi come andrete giù? Anche perché manca pochissimo. Sì, il prossimo mercoledì, il mercoledì giusto. Il mercoledì sarà più rapido di questa partita, secondo me. Quindi noi dobbiamo pensare questa cosa e poi abbiamo fatto bene oggi, quindi noi scendiamo un campo come oggi. E poi vediamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.